Sì, questo emendamento va a correggere alcuni refusi del testo coordinato, come esempio la parola future con passate, eliminare il punto da 5 a 3, dal 5 al 30 naturalmente, oltre a alcune altre correzioni di questo tipo. Poi al punto 11 passa la competenza, e questo è importante, dei bandi anche per i mercati coperti e platatici attrezzati ai municipi. Questo significherà che poi bisognerà lavorare in ottima e decentramento, poi a decentrare anche le risorse umane e finanziarie che oggi gestiscono queste cose presso i municipi. Per le ferie abbiamo fatto un chiarimento, abbiamo richiamato la normativa di settore, perché altrimenti rimanono fuori le ditte individuali. Abbiamo chiarito le competenze del tesserino identificativo e del rilascio, che sono quelle specificate all'articolo 11. Abbiamo poi dato un punteggio a coloro che esercitano l'attività come unico sostentamento per la propria famiglia e direttamente. Abbiamo dato la possibilità del riconoscimento dell'anzianità degli spuntisti nei mercati saltuari per la partecipazione ai bandi. Altra cosa importante, prima nei mercati che scendevano sotto il 30% dell'organico base, c'era la parola che dovevano essere trasformati in posteggi fissi. Adesso diamo questa facoltà trasformando il devono in possono, quindi i municipi hanno facoltà della trasformazione o meno, a seconda della conoscenza del territorio. Abbiamo allineato i periodi di esercizio dei posteggi stagionali alla normativa regionale, c'era un errore in questo caso. E poi poco altro, altri refusi. Grazie.